Da dieci anni lavoro nel settore automotive e quindi volevo condividere anche con gli altri smanettoni che sono abituati a lavorare solo sul software magari o che non mettono mani spesso nell'hardware. Volevo dare un contributo per cercare di incoraggiare altre persone a provare a sperimentare e a scoprire come lavorare anche sulle macchine. Nel mio talk ho cercato di gettare le basi e spiegare in termini comprensibili a chi non è del settore da come si può cominciare per capire come funziona il sistema di un'auto. Ho presentato il mio progetto che si chiama Crunch Track, che è una piccola scheda che permette all'utente di usare questa scheda come strumento di reverse engineering per verificare come funziona l'auto. Una volta effettuato il reverse engineering l'utente può scrivere del codice che poi girerà sempre sulla stessa centralina e gli permetterà di controllare l'auto da remoto, per esempio, visto che il modulo ha un modulo GSM integrato e un modulo GPS e può interfacciarsi quindi col computer e con internet.